Più che allungare il brodo con ulteriori proroghe, basterebbe prendere spunto dall'illuminante sentenza targata Filippo Patroni Griffi, giudice di Consiglio di Stato, che nella 2021 offrì una via d'uscita dalle sabbie mobili, è proprio il caso di dirlo, della direttiva Bolkestein. Ed è tutto evidente che il Consiglio di Stato, con altra sentenza dello scorso 30 aprile, richiami le istituzioni a far partire le gare e i balneari a prendere atto delle indicazioni da Bruxelles. Ma la soluzione per uscire dall'impasse c'è ed è contenuta nella sentenza di tre anni fa, come spiega a condovizia di particolari l'onorevole Luciano D'Alfonso. La sentenza Patroni Griffi, a sezioni riunite, a pagina 47, descrive come si dà valore alle gestioni precedenti e risalenti, cioè a quelle gestioni che hanno portato avanti i progetti integrati per il turismo locale, componendo attività gestionali con gli enti locali, facendo attività di formazione, di salvataggio, di esaltazione delle identità locali. Lo dice la sentenza del Consiglio di Stato del 2021, a sezioni riunite. Io non ho capito perché si è voluto insabbiare le pagine luminose di questa sentenza e provare ad ingannare la categoria con quella promessa della proroga. Una proroga non dice nulla al soggetto bancario che dovrebbe finanziare una gestione lunga ed ambiziosa di quella concessione. Invece, se si fa la gara e la gara deve essere fatta, come dice l'Europa, l'Italia e la giurisprudenza qualificatissima di secondo grado del Consiglio di Stato, noi dobbiamo attivare le procedure di gara facendo in modo che l'ambito funzionale per stabilire la scelta del contraente sia quella più vicina al territorio. Come si legge in questa nuova sentenza del 2024 del Consiglio di Stato? Siano gli enti locali a gestire le procedure. La preoccupazione ci sarebbe stata se doveva essere, per esempio, l'Agenzia del Demanio a livello nazionale. Lì si poteva fare confusione, disordine, ma nel momento in cui addirittura si tratteggia anche qual è l'ambito territoriale ottimale, procediamo a legare senza inganni e senza indugio. Perché non si è voluto fare questo e si è continuato a ballare, a fare una danza degli irresponsabili cercando le proroghe, a mio avviso per ingannare la pubblica opinione di riferimento e per fare più uno sul piano delle convenienze di consenso elettorale di volta in volta quando c'erano gli appuntamenti. Adesso basta, evitiamo di ingannare oltre gli operatori economici, facciamo tenere le gare e le gare daranno ragione alla capacità di gestione, alla tradizione, all'esperienza e al rispetto dei principi di competizione.